Un tema quanto mai attuale è l'utilizzo degli agrofarmaci per utilizzo non professionale per i cosiddetti hobby farmer, soprattutto dopo novembre 2015 con l'obbligatorietà del cosiddetto patentino per i professionisti. Come dobbiamo comportarci? Cosa stiamo aspettando a livello normativo da parte del Ministero della Salute per regolamentizzare l'utilizzo di questi prodotti? Sì, ha detto giustamente. Esattamente il 26 novembre 2015 è entrato in vigore il cosiddetto PAN che ha sancito sostanzialmente la necessità di identificare i prodotti destinati ad uso professionale da quelli a uso non professionale. Sostanzialmente chi non è in possesso del patentino non deve fare altro che può solo acquistare prodotti ad uso non professionale. Il Ministero ha previsto una data per l'entrata in vigore o la pubblicazione sulla gazzetta del nuovo decreto? Io ho notizie dal Ministero di una data certa, non c'è, è sempre difficile averla. C'è una bozza che è in circolazione, in questo momento mi sembra che sia ferma alla Commissione europea e ci si aspetta che entro la fine del corrente anno il decreto arrivi finalmente, sia approvato. Per tutti coloro che hanno lobby dell'orto, del giardinaggio e delle piante sul terrazzo, che cosa cambierà concretamente? Sostanzialmente in questa fase non è cambiato assolutamente nulla. Il Ministero, consapevole del fatto che non ha potuto emanare il decreto, non ha fatto altro che ha provveduto ad elaborare una tabella di conversione e quindi in questo modo i rivenditori sono in grado di indirizzare in maniera dettagliata, precisa, i consumatori, insomma chi si presenta al banco per prendere un prodotto ad uso non professionale. Sono sicuramente in grado. La ringrazio, spero di vederla entro breve per discutere del decreto uscito e approvato. Grazie a tutti. Ci lavoriamo davvero, grazie.